il panettone fa male il panettone fa male ha detto mi rovini tutta l'idea che stagionalizziamo il turismo in Puglia fa buonatale a giugno che te ne pare? è una buona idea bisognerebbe riproporla anche se in cuor suo leggo altro come dicevo di 3-3 a me a me stronzate ma noi invece resistiamo se sei originale resisti sempre resistiamo sempre più del Natale a giugno ragazzi io non ci posso quando me l'hanno detto non ci potevo credere tu da dove vieni? da Modugno lui deve dirlo con un accento un po' inglese da dove sei? da dove sei? non ci posso parlare inglese ando dai oh dìvi sono da Modugno Modugno quindi tu hai origini paresi ma vivi in quante libertà ah ok non vivi in Ontario no 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 in Canada no? no no va bene ma quando festeggiati a Modugno il Natale? il Natale? quando te il 24 il 24 ciao bimbi ciao ciao oh 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 quando lo festeggiamo a Modugno il Natale? il Natale? il 25 non era il 24 non era il 24 non era il 24 il 24 25 26 26 dove vai? dalla suocera ebbè è normale è normale è normale invece oggi è il 21 che vale il 24 il 25 dove vai? domani che fai? domani? eh come che significa? domani che fai? in Natale che fai? domani? eh è già Natale e dobbiamo destagionalizzare facciamo la sagra del Natale dai destagionalizziamo dove vai? mamma mamma da mamma ebbè il 25 si va da mamma e porta il parettoncino da parte nostra grazie lo consegno per Natale ah questo non l'abbiamo chiesto ma reggi fino a Natale no eh ti vabbè congeliamo così te lo faccio fare un altro dai tanti panettieri andiamo buon pomeriggio mia cara ecco il panettone con la mortadella perché no? for you grazie buon Natale Merry Merry Christmas a buon Natale grazie anche a te a buon Natale che cosa deve dire? a buon Natale dimmi domani forse ritorni domani forse ritorni io ti fate la tele va bene va bene anche io ciao 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 bimbi buon Natale Merry Christmas poษ grazie ho 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 where are you from? I am from Georgia Georgia pensate voi la merde estas pens Max Sümatte dà do'ese c'è questo matto dà dove viene fuori va bene another un altro na due due e viva Georgia Merry Christmas con la mortadella, è chiaro, il panettone con la mortadella e la birra, ce l'abbiamo la birra? Do you have birra? Certo, è chiaro, è senza birra il panettone, che natale è!